Siamo quasi Oh prega Prega per noi Oh potere dell'acqua abbiamo aumentato Bene Ci siamo Occupiamoci di loro per prima cosa Oh Ok No Oh A qualcuno è caduto qualcosa Vai ok Perlustiamo la zona Allora Dovevo perlustrare la zona Anzitutto vediamo in che zona Ah no Proprio questa zona qua dovevo perlustrare Ma qualcuno è caduto qualcosa Sette metri qua E chi è caduto? Ah questo Nel mezzo Ah no Nel bel mezzo della battaglia Una registrazione lasciata da Ed Sembra che il dispositivo stesse ancora registrando Quando l'ha lasciato cadere Andiamo a vedere Se non volete portarmi Ci vado da sola Erika Aspetta Sentite devo seguirla Attenetevi al piano e andatevene da Shibuya E che si fa con KK Diteli che Erika non deve combattere E mettete questo nell'armadietto alla stazione di Shibuya D'accordo Dici dove pensi che sia andata Ti aiutiamo a cercarla Capisci perché il piano non ha funzionato come previsto Andiamo alla stazione di Shibuya C'è un armadietto che usavamo Per le consegne al buio Sembra che Rinko ci abbia lasciato qualcosa Ah Si sono attivate Ok Ok si Si sono attivate altre missioni secondarie Perfetto Allora Andiamo un pochettino Io direi Che ci facciamo prima questa Una fermata nell'oblio Ok Ah è sotto Metropolitana Ok andiamo Si dice che Se sei l'unico passeggero Sulla metropolitana Ti porterà una fermata Che non dovrebbe esistere Ah Credevo fosse una leggenda metropolitana Eh beh Sì Di questi tempi direi che magari non è tanto leggenda Infatti Io dovevo scendere E lui era l'unico rimasto sul treno E Non è mai tornato a casa Ah Non riesco a smettere di chiedermi Che cosa gli si è Però te lo cerchiamo noi Te lo cerchiamo noi Dovrebbe esistere Interessante Vogliamo scoprire questa leggenda Certo certo Andiamo fino in fondo Quanto c'è di verità in questa leggenda Ciao caro Arrivo Entriamo nella metropolitana Ok Per l'uso la stazione della metroma Certo Allora Allora Beh Direbbe Di andare di qua Quindi Andiamo di qua Mi pare che non ci sia nulla Lungo il percorso Quindi Ah no Aspetta Un po' di roba c'è qua Oh Ok Ci siamo eh Ci siamo eh Eccoci Per l'uso la stazione della metro Guarda un po' Ti è piaciuta? Eh? Beh, adesso c'è solo un passeggero Non sono sicuro che sia così che funzioni Oh Ehi, guarda Credo che sia il nostro treno Dov'è? Lo prendiamo? Siamo arrivati fin qui Vediamo dove ci porta Sali sul treno? Così? Ah, di là Ok, arriva, arriva, arriva Oh, vediamo se è vera la leggenda Mi chiedo se contiamo come una sola persona Perché no? D'altronde io sono solo la tua guida O forse perché i neonati viaggiano gratis Avanti, dillo un'altra volta Ah, chiedo non so Oltre che, 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 dai Oh Ma che? Inizio a sentire aria di guai Sì Ok Nooo, siamo arrivati in un super scontro E non ho la... Oh, qua mi scivoliva il potere dell'unione Dobbiamo scendere Dobbiamo scendere E scendiamo Ok Oh, in via Mela Non riesco a uscire da qui Che cavolo di stazione è In via Mela In via Mela In via Mela In via Mela Dove sono i nostri fratelli cosmici? Devi decifrare questo codice Aiutami In via Mela In via Mela In via Mela Questa non è una stazione normale Corruzione Deve esserci una concentrazione di emozioni qui Tutti chiama In via Mela Ok Ecco qua Un'andata Oh Chi è? Ciao Manu Tutto bene? Ero Ero incasinato a uccidere questi Non mi ero accorto che avevi scritto Ci dica dove si trova Qui Nella stazione Ah Ah è finita Oh Acqua Dove vai? No Mi serve un po' di Corri Ok 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 Vabbè Torna al binario Corri Vai tranquillo Oh ho finito tutto No No Sei presa comoda Non tanto comoda Mi serve altre etere No Ce l'ho fatta per un pelo Aspetta un attimo Ok Ho potuto scrivere solo ora Ok Da notare è perché le donne come boss fight sono sempre più incavolate e forti E' vero Sono più scocciante le... Dovrebbe neanche esistere È il momento che torni da dove sei venuto Ok andiamo Oh Oh E' una boss fight contro questa qua E' una boss fight contro questa qua Figurati Non ti preoccupare Vai tranquilla Ah Dove fare solo la spesa Ok va bene Va bene Bravo brava Sarò anche morto Almeno sono riuscito a tornare qui Qui va bene Ok Bene A posto Un viaggio in solitaria di sola andata Non male Ma I mail alla moglie Ehi scusami Ma penso di non tornare a casa per cena Sono sceso alla firmata sbagliata Quindi Bah Non so che ora tornerò Sempre che non abbia perso l'ultimo treno Sono due ore che aspetto E non passa nulla Forse meglio chiamare un taxi Ti tengo a giornata Ciao Ciao Sceglierei Una stazione diversa Sembra quasi Non rendo film di serie B degli anni 80 Ehi quelli sono dei classici Fatti una cultura Oh Oh vai vieni Venite Spiriti Fate assorbire Che così aumento il mio livello Ok ci sarebbe Un'altra missione secondaria Cioè ci sarebbe Ah no Ora non la posso vedere Perché sono giù È vero Eh Spettatore numero uno Sempre Spettatore numero uno Ok Un passo alla volta Dobbiamo tornare su Eccoci qua Andiamo 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 Esci Ok Torniamo nella mappa principale L avait Orada O Grazie a tutti.